Mister Unverona che ha ripreso il suo cammino in campionato, come lo aveva finito? A dicembre ci eravamo lasciati con una vittoria a Tavagnacco dopo quella arrivata contro la Puglia Trani e oggi qui in casa un 3-0 al Genoa. Sì, era la vittoria che volevamo. Chiaramente è stata una partita sofferta, però dominata sull'aspetto del gioco. Sapevamo che era un avversario complicato perché ha cambiato mister nell'ultimo mese, ha cambiato 4-5 innesti nuovi e quindi sapevamo che era una partita complicata ma che dipendeva da noi soprattutto il risultato. E quindi secondo me è stata un'ottima partita da parte delle ragazze. Una partita appunto, come dicevi, dominata, sbloccata con il gol di Cappucci nel primo tempo e poi chiusa con le reti di Peretti e di Anghileri nel secondo tempo. Come hai visto le ragazze oggi in campo? Le ragazze le ho viste molto bene, erano concentrate dal primo minuto. Abbiamo gestito appunto il gioco. È stato importante nel secondo tempo comunque chiudere la partita perché appunto quando abbiamo iniziato il secondo tempo il Genoa giustamente ha iniziato comunque a pressare forte, a attaccare tanto e quindi ci hanno un po' messo in difficoltà in questo senso. Però fare il secondo e il terzo gol ci ha aiutato tanto per comunque continuare a gestire la partita perché anche il primo tempo è stato comunque in gestione nostra. Oggi sostituivi coach Veronica Brutti che era squalificata. Come è stato per te personalmente la partita di oggi? Come l'hai vissuta come primo allenatore? Ma io chiaramente sono a disposizione della società e noi siamo uno staff comunque coeso, unito e per me è stato comunque abbastanza semplice fare questa partita. Sono molto contento e mi fa piacere che le ragazze abbiano avuto anche comunque un atteggiamento molto positivo sia nei confronti ma comunque alla fine giocano loro. Quindi il risultato dipende soprattutto da loro e il mio lavoro è stato facilissimo in questo senso. Ora c'è la sfida alla capolista, la Lazio che oggi ha vinto 1-0 contro il Cesena. Come si prepara questa sfida che si affronterà la prossima domenica in trasferta? È una sfida difficilissima, giocheremo contro la prima della classe e dobbiamo fare come facciamo sempre, lavorare tanto, concentrate e con un unico obiettivo cercare di fare punti in trasferta che sarà complicato ma è alla nostra portata. Perché comunque sia tutti i risultati di quest'anno sono stati dipesi soprattutto da noi, sia nel bene che nel male. Quindi secondo me giocarcela è alla nostra portata, è complicatissima però secondo me lo spirito deve essere quello di cercare di portare a casa punti.